Musica Ben ritrovati con A2x2, consueto faccia a faccia con i consiglieri provinciali e regionali come sempre e diamo il bentornato ai nostri studi a David Moranduzzo, consigliere della Lega, grazie per aver citato l'invito Grazie a voi E allora consigliere andiamo subito ai temi caldi del momento, cominciamo dalla Valdastico Valdastico che recentemente sembra aver incassato una lunga serie di sì, soprattutto dai territori della Val Sugane che sono quelli maggiormente interessati, qual è la situazione? Chiaramente la Valdastico è un tema importante che noi nelle ultime campagne elettorali abbiamo sempre portato avanti La Valdastico è un'opera pubblica, si può dire l'opera pubblica più importante per il Trentino in questo momento perché collega così il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino con un'unica strada che taglierà di un grande percentuale il traffico in Val Sugana L'uscita che noi puntiamo è quella di Rovreto, per cui è un'uscita importante e sarà importante questa opera pubblica per il turismo e non solo, anche per il commercio, per la nostra provincia È un'opera pubblica a costo zero per il Trentino, per cui non ci saranno nessun costo che andrà a incidere ovviamente sulla nostra cittadinanza È un'opera, come dicevo, fondamentale sia per noi che ovviamente per il Veneto e per il Friuli Ecco, dicevamo appunto in apertura, consigliere, il sì dei territori toccati dalla Val Sugana Cosa che fino a qualche anno fa sembrava impossibile da ottenere Quasi tutti i consigli comunali dove verrà fatta la Val d'Assico sono quasi tutti favorevoli, per cui questa è una spinta ulteriore La nostra amministrazione provinciale ha sempre puntato sul dialogo con i vari consigli comunali Per cui abbiamo visto che a parte un paio di comuni che politicamente sono schierati contro la nostra amministrazione provinciale Tutti gli altri comuni sono favorevoli alla realizzazione della Val d'Assico Quindi un'opportunità di sviluppo in più, l'abbiamo sentito e opportunità in più arriva anche, può arrivare anche da un evento Sulla quale la giunta provinciale sta puntando moltissimo ed è il concerto prossimo ormai di Vasco Rossi L'appuntamento, lo sappiamo, è per il prossimo 20 di maggio Anche qui si è dibattuto molto consigliere e mi permetta anche un po' la considerazione Rischiando anche di fare un po' un eco anche fuori dalla nostra provincia Non proprio positivo per un evento del genere, qual è la situazione? La situazione è che stiamo aspettando dal comitato di vigilanza quante persone potranno partecipare a questo evento Questo sarà il primo evento importantissimo sul nostro territorio Perché verrà una rockstar importante e conosciuta sia in Italia che in Europa che nel mondo Che è Vasco Rossi Un cantante conosciuto e che piace a moltissime generazioni Per cui è un cantante che non è mai passato di moda Un cantante che piace tanto Abbiamo visto il riscontro positivo E' proprio quello che i cittadini di Trento, Trentini, Alto Tesini E i cittadini che vivono nell'Eureggio Hanno avuto la possibilità di acquistare dei biglietti Altri biglietti ovviamente sono stati dati alla portata di chi vive in un altro territorio Che possono essere tutti gli altri territori Il Veneto, il Friuli, la Lombardia Che saranno loro ovviamente a portare in Trentino un introito importante Perché loro comunque verranno, vedranno sì il concerto in quella data stabilita Ma poi dopo ovviamente usufruiranno anche i vari servizi in Trentino A Trento in special modo Che sono gli alberghi, i ristoranti, i bar E per cui ci sarà un introito così importante per la nostra provincia Perché già oggi, già oggi no, ma magari qualche mese fa C'era chi all'interno del Consiglio Provinciale Sperava che andasse tutto male Invece siamo riusciti con la super convinzione anche del Presidente Fugati A portare un concerto importantissimo E verrà sicuramente fatto Per cui Vasco Rossi aprirà il suo tour proprio a Trento Una cosa importante per tutto il settore economico E anche turistico per la nostra provincia Per cui siamo consapevoli che la scelta di aver portato fino in fondo L'idea di fare un concerto con una rockstar La rockstar forse più importante a livello nazionale a Trento È stata una cosa che abbiamo azzeccato in pieno Per cui anche i biglietti che sono stati venduti Una parte sono stati venduti qua in Trentino e in Alto Adese E l'altra parte ovviamente è stata venuta fuori Per cui sono stati anche riservati dei biglietti per il Trentino La cosa fondamentale è che a Trento per la prima volta Ci saranno delle persone che verranno e passeranno un paio di giornate sul nostro territorio Ecco, allora quindi la vostra convinzione è che alla fine arrivi anche il sì della Commissione di Vigilanza Ma sì, il sì della Commissione di Vigilanza arriverà quasi sicuramente Poi bisognerà vedere quante persone potranno partecipare a questo evento Per cui la mia speranza è quella che veramente tutti quelli che hanno acquistato il biglietto Possano vedere veramente Vascorossi a Trento Per cui la speranza è sicuramente positiva E sono convinto che verrà fatto in massima sicurezza Per garantire a tutti i cittadini presenti Di poter vivere quelle ore di spettacolo ovviamente in tranquillità Con le ricadute economiche di cui abbiamo parlato anche noi nei nostri notiziari Che sono state esposte dalla Confcommercio proprio poche settimane fa In cui si parla di qualche bel milione di euro Sicuramente, l'introito è sicuramente un introito importante Abbiamo visto anche in passato Quando vengono anche le società calcistiche sul nostro territorio Comunque sì, la provincia deve dare dei soldi Però l'introito è maggiore e sicuramente porta ad un benessere ulteriore A tutte quelle attività economiche del nostro territorio Per cui sono convinto che la scelta di portare Vasco Rossi a Trento È una scelta fatta bene Con la speranza che sia davvero così Dunque che ci si possa godere anche questo evento Noi chiudiamo questo faccia a faccia con il consigliere David Bonanduzzo Che siede tra i banchi della Lega Lo ringraziamo, gli auguriamo un buon lavoro Grazie mille E a voi tutti appuntamento al prossimo A tu per tu Grazie a tutti